Tutte le istituzioni sarde contano in un risultato sia a livello pubblicitario che a livello sportivo, dunque sento molto il carico della responsabilità, ma la sento adesso, non ho da partita la gara, poi mi sciolgo, non devo più pensare a nessuno, mi farò la mia gara e porterò a casa quello che di buono o di male la gara mi darà. Allora, ci troviamo a Fiumicino, siamo in attesa del volo che ci porterà tra due ore circa ad Amala, capitare da Giordania, e poi, il giorno successivo, partirà a bagnare la resita planta e la resita planta. Stiamo cercando di consumare un pasto abbastanza carico, di grassi nel mio caso, considerando che ne avrò bisogno e sono le prime sostanze che consumerò in gara, dovremmo poter caricare, a differenza di altri giorni di allenamento, questi grassi, delle patate abbastanza oliose, della carne di manzo, sempre con abbondanza di olio, anche della resa maionese, e poi un po' di termi idrati nel pane, dunque incarico una cena un po' atipica, che si discosta da quelle che normalmente faccio ma non sono in preparazione, però, in questo momento, mi servono questi ingredienti per portare un po' di almeno un chiletto in gara, altrimenti a rischio di mangiarmi il muscolo. Attenzione, prego, volo all'Italia 510 per Tirana, i passeggeri Bregasi, Echeleda, Edlira, Lava, Sharda, Ivozzi, Capisco, yes, andesterno, non capisco, ed ucciso, sta diventando un problema, questo sbarco in Giordania, mi sa, un po', ma come fanno in Napoletano, alla fine ci faremo capire, non parlo l'inglese, questa è la frase che devo imparare in medio, no, I don't speak English.